Siamo qui sulla scogliera di Villa Rosa, io ho appena arrivato dalla Lapponia per fare un bagno al mare ed effettivamente ho trovato solo il mare. Sono qui sperando che Babbo Natale riesca a portare un po' di spiaggia ed addolcire il cuore di quella regione Abruzzo che si sta muovendo ma troppo lentamente ormai da anni. Dobbiamo costruire queste scogliere adesso e subito. Mi sono arrivate tante letterine dei balneatori di queste scogliere che ancora non se ne vede l'ombra. Speriamo che io sopra la mia slitta riesca a trovare davvero posto per tutti quei sassi e ricostruire finalmente un litorale decente per questo paese che è Villa Rosa di Martinsicuro. Buon Natale a tutti, da Babbo Erosione.